Mentre noi lanciamo i nostri Viva, che in questa puntata sono cinque. Siete pronti? Ok. Viva l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, Radio Televisione Italiana! Viva! Il maestro Alessandro Milani! Viva! Viva la Uni Orchestra! Viva! Viva il Gran Concerto! Viva! Viva la musica classica! Viva! E adesso i ragazzi della Uni Orchestra, insieme all'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, Radio Televisione Italiana, suoneranno per noi un gran waltzer. Si chiama Sangue Viennese di Johann Strauss, figlio. Musica! E adesso i ragazzo del grave! E adesso eант Grazie a tutti 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 Grazie a tutti